Buonasera e bentrovati alla seconda edizione del Tg6. Giustizia in primo piano. Servono 50.000 firme per sostenere il progetto di legge costituzionale per la separazione delle carriere dei magistrati. Oggi è partita la raccolta firme davanti al Tribunale dell'Aquila, raccolta firme che a livello nazionale è lanciata dalle Camere Penali che sono in sciopero fino a domani. Sentiamo il servizio di Filippo Tronca. 6 mesi per raccogliere 50.000 firme a sostegno del progetto di legge costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. Un obiettivo alla portata che intendono perseguire anche gli avvocati della Camera Penale dell'Aquila, che dopo aver lanciato la campagna in una conferenza stampa nella nuova veneristica ala del Tribunale del Capoluogo, oggi sono passati all'azione, ovvero la raccolta delle prime firme nel gazebo piazzato all'ingresso del Tribunale. Al nostro microfono il Presidente della Camera Penale, Gianluca Totani. Speriamo che sia massiccia la partecipazione della società civile a sostegno di una iniziativa che è assolutamente ormai ineludibile. Ecco, perché siete favorevoli alla separazione delle carriere dei magistrati? Perché è il fine stesso di quello che per noi è il giusto processo. Il processo penale è un processo tra parti, sicché l'accusa e la difesa devono essere messi sullo stesso piano. Oggi abbiamo il Pubblico Ministero che è un collega del giudice, sicché non c'è parità tra le parti. A questo punto è necessario quindi che le carriere dei magistrati vengano nettamente separate, anche perché i magistrati non solo fanno parte dello stesso ordine, ma si creano delle incrostazioni, soprattutto in organismi quali i consigli giudiziari che giudicano sulle carriere stesse dei magistrati, che possono influire sugli avanzamenti di un Pubblico Ministero piuttosto che di un giudice. Per non dimenticare poi il fatto stesso che fanno parte di una stessa associazione di categoria come l'Associazione Nazionale Magistrati. Sarebbero due minorenni di 15 e 16 anni, come evidenziato dalle risultanze investigative della squadra mobile, gli autori di una rapina e di una tentata rapina lo scorso 6 marzo lungo la rivera nord di Pescara, ai danni di due giovani. Due minori sono stati rintracciati ieri e in esecuzione di un'ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale per i minorenni di L'Aquila, Cecilia Angrisano, su richiesta del PM Antonio Altobelli, sono stati collocati presso una comunità educativa in attesa del processo. I due minori, secondo gli inquirenti, nel tardo pomeriggio di due mesi fa avvicinarono le due vittime, uno quasi diciottenne e l'altro poco più grande. Dopo averli schiaffeggiati, gli intimarono di vuotare le loro tasche. Mentre la vittima maggiorenne riuscì a divincolarsi, l'altra venne portata con la forza dietro uno stabilimento dove i due minori sono riusciti a sottrargli con la forza il telefono cellulare, una sigaretta elettronica e 15 euro in contanti. Le indagini avviate dalla squadra mobile hanno portato all'identificazione dei due giovani rapinatori, uno dei quali trovati in possesso del telefono di una delle vittime. Il giovane davanti poliziotti messo di fronte alle sue responsabilità ha ammesso i fatti e consegnato ai poliziotti anche la sigaretta elettronica. Ha riconosciuto di avere procurato lesioni alla donna che frequentava ma ha respinto con forza la contestazione del tentato omicidio. Si è svolta questa mattina nelle carceri di San Donato a Pescara. L'udienza di convalida per il romeno di 58 anni che nella tarda serata di lunedì scorso, al termine di una discussione, ha coltellato la sua donna, una connazionale, in un'abitazione del centro di Pescara dove quest'ultima accudiva una persona anziana. L'interrogatorio condotto dal GIP Elio Bongrazio alla presenza del PM Valentina D'Agostino e dell'avvocato difensore Romito Liborio è durato circa mezz'ora. L'indagato ha risposto alle domande del giudice fornendo, secondo il legale, la massima collaborazione spiegando di avere agito per ragioni di gelosia. Il PM ha chiesto la restrizione dell'uomo in carcere e il GIP si è riservato di decidere. Romeno non è stato in grado di indicare una fissa dimora dove eventualmente restare agli arresti domiciliari in attesa del giudizio. L'avvocato Pierpaolo Andreoni, uno dei legali difensori di Fabio Di Lello, il ragazzo vastese condannato a 30 anni di reclusione per aver ucciso Italo Delisa che aveva investito e provocato la morte della moglie, parla della strategia difensiva che verrà attuata nel processo d'appello. Lo fa durante un seminario di diritto pubblico organizzato dall'Università di Teramo. Il servizio è di Tania Bonnici Castelli. Pierpaolo Andreoni, uno dei legali di Fabio Di Lello, l'uomo condannato in primo grado a 30 anni di carcere per aver ucciso il ragazzo di 22 anni che aveva investito e provocato la morte della moglie, spera di poter ottenere dal processo d'appello la riduzione a 20 anni di reclusione per il suo assistito e se mai venisse accettata la perizia psichiatrica anche a meno in Cassazione. Ne ha parlato a Teramo gli studenti che hanno partecipato al seminario sulla responsabilità penale nell'ambito dell'insegnamento di istituzioni di diritto pubblico dell'Ateneo Teramano. Il processo è stato definito in primo grado con giudizio direttissimo richiesto dal pubblico ministero il 23 di marzo di quest'anno. Il ragazzo è stato condannato, nonostante la richiesta di ergastolo da parte del pubblico ministero, alla pena di 30 anni. La Corte ha riservato 90 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza, chiaramente contro le quali faremo appello, leggeremo le motivazioni. Noi crediamo che il processo abbia, nella rapidità col quale è stato svolto, abbia avuto dei momenti e dei passaggi che per noi sono importanti sottolineare e far rilevare in appello soprattutto l'antefatto della vicenda e soprattutto gli elementi psicologici non solo legati allo stato di salute mentale del ragazzo nel momento in cui ha svolto questo efferato delitto, ma soprattutto gli elementi psicologici che lo hanno portato a quella situazione di instabilità che poi ha determinato l'evento. L'incontro dal titolo Difendere Abele e Recuperare Caino è stato organizzato dal professore di diritto pubblico dell'Università di Teramo, Carlo Di Marco, che ha sottolineato come nella Costituzione italiana la pena non sia considerata mai una vendetta. Il messaggio invece, questo sì, della nostra Costituzione è rivolto a mettere al primo posto dei diritti la persona, la persona a prescindere, a prescindere da qualsiasi altra caratterizzazione che ad essa potrebbe essere possibile, si potrebbe dare. Per cui la persona deve essere messa in condizione dalle strutture di potere, diciamo così, di avere altre chance, di avere altre possibilità di rinserimento nella società. La vendetta non esiste nella nostra Costituzione. Che significa difendere Caino? Difendere Caino vuol dire che tutti, nel rispetto dei valori costituzionali, hanno diritto di essere difesi. Devono essere comprese le ragioni per le quali sono stati fatti determinati elementi, determinati delitti, determinati fatti anche di cronaca, dei quali ad esempio ci stiamo occupando, ma bisogna, e la seconda parte del convegno, è recuperare Caino. Ed ora torniamo ad occuparci di Rigopiano. Ho depositato un'interrogazione parlamentare per chiedere chiarimenti al Ministero competente sulle ultime vicende riguardanti Rigopiano e quanto annunciato dal deputato di Forza Italia Fabrizio Di Stefano a seguito delle ultime notizie in merito all'inchiesta sull'hotel di Farindola, travolto da una valanga. In particolare spiega per chiedere per quale motivo le famiglie, a cui non è stato detto che erano tutti morti sul colpo, non siano state portate a conoscenza su come siano state effettivamente trascorse le ultime ore di vita dei loro cari. Un'interrogazione dunque per chiedere cosa intende fare il governo in merito a questo orribile metodo di diffondere attraverso la stampa continua di Stefano notizie importanti a riguardo delle inchieste giudiziarie. Nello specifico prosegue il parlamentare reputo incredibile ed assurdo che un quotidiano possa essere a conoscenza di fatti che sono stati gli ultimi istanti di vita di una delle vittime di Rigopiano a dispetto dei familiari che al contrario ne sono stati completamente tenuti all'oscuro. Il governo continua di Stefano non può più consentire tutto questo e deve prendere provvedimenti affinché atti riservati, in questo caso sensibili, non arrivino in maniera incredibile nelle mani della stampa. Ed ora ci occupiamo di banche. L'Assemblea della Banca di Credito Cooperativo abruzzese di Cappelli sul Tavo ha approvato all'unanimità la proposta di riduzione da 3 ad 1 delle deleghe che ogni socio potrà ricevere per prendere parte alle assemblee ordinarie. Di deleghe si è tornato a parlare dopo la vicenda giudiziaria che vede coinvolti due notai indagati per falso nella vicenda dell'autenticazione delle deleghe nelle ultime elezioni per il rinnovo delle cariche dell'Istituto. Nell'Assemblea si è parlato anche dei numeri della banca e di novità soprattutto per quanto riguarda la mutua della BCC. Ascoltiamo l'intervista al Presidente Michele Borgia realizzata da Francesca Romana Testi. I numeri sono positivi in termini di disponibilità e di capacità di impatto sulla realtà economica di riferimento. Oggi la BCC ha a disposizione una liquidità pari a 215 milioni contro i 195 dell'esercizio precedente, liquidità che può essere utilizzata in buona parte per fare tutta una serie di interventi e al riguardo abbiamo riconfezionato i prodotti migliorando le condizioni proposte e rendendole assolutamente competitive. Io do un dato per tutti. Nella città di Monte Silvano, la banca BCC Abruzzese, che è stata da sempre banca leader con il 25% dell'intermediato dell'intera Monte Silvano, ha consentito, abbiamo fatto una statistica, la costruzione di oltre il 40% degli edifici attraverso un finanziamento fatto ai costruttori che nel tempo si sono succeduti per creare le realtà abitative di cui oggi Monte Silvano dispone. Chiaramente questo, come il risvolto della medaglia, porta anche al fatto che essendoci negli anni precedenti molto concentrati sull'edilizia, oggi soffriamo, ma stiamo facendo una operazione di riqualificazione del comparto crediti mediante il quale, dismesse le partite anomale, riusciremo a dare un impulso ancora più forte di quello che siamo riusciti a dare in passato. La banca ha voluto creare cinque anni fa un organismo, un'associazione che si chiama Abruzzese Salute, è una mutua, abbiamo 770 famiglie oggi iscritte alla Abruzzese Salute con un trend in crescita e la prospettiva dopo il riconoscimento della veste giuridica da parte della regione di poterci aprire all'acquisizione del 5x1000 che ci aiuterà molto nel migliorare la qualità dei servizi offerti ai clienti e ci lancia anche sui circuiti dei progetti formativi e dei progetti di welfare generale dell'Unione Europea. Voltiamo ancora una volta a pagina a far compiere passi avanti decisivi al procedimento e approdare in tempi rapidi alla definizione della razionalizzazione del patrimonio immobiliare da assumere in locazione per la nuova sede degli uffici della Giunta regionale d'Abruzzo a Pescara e l'obiettivo del Presidente della Giunta Luciano D'Alfonso che ha incontrato nel corso di una riunione il Comune di Pescara e i tecnici della regione ribadendo la volontà di proseguire per accelerare la realizzazione della sede unica della regione nel capologo adriatico. Lavoriamo strenuamente per accelerare la ricostruzione di Palazzo Centi all'Aquila e la definizione della procedura per la City a Pescara. Non è cosa di poco conto, ha spiegato il Presidente, evitare che un determinato fascicolo amministrativo faccia giri improbabili da una sede all'altra, da un ufficio all'altro con inutili perdite di tempo e relativi palleggiamenti di competenze tra dipartimenti o servizi. Il testimone passa ora nelle mani dell'amministrazione comunale che dopo la concessione del permesso di costruire alla società titolare del complesso in via Tiburtina è chiamata ad elaborare un atto amministrativo evolutivo che riassuma i passaggi chiave della procedura e dia slancio al percorso di realizzazione della nuova sede. Andiamo avanti questa mattina sempre a Pescara a commemorazione del centenario del bombardamento della città durante il primo conflitto mondiale. Per l'occasione è stata inaugurata una lapide restaurata e posta sulla facciata dell'ex Ferrotel in ricordo delle vittime del bombardamento. Paolo Renzetti. Diceva nel suo breve discorso che non bisogna dimenticare, non bisogna far sì che le giovani generazioni soprattutto dimentichino quello che è successo a Pescara. È una vestigia, una traccia che abbiamo voluto recuperare della nostra storia cittadina. Questo recupero è avvenuto anche attraverso un atto di generosità individuale dell'assessore Paolo Marcheggiani che ha materialmente finanziato il recupero di questa lapide, non solo a dire il vero, con il taglio della propria indennità. Pur essendo una città giovane abbiamo tante storie da raccontare, abbiamo tante storie, tante circostanze da far conoscere a chi non c'era. È stato ricordato che cento anni fa qui c'era un corteo che partiva dall'allora municipio, l'attuale conservatorio, e che giungeva fin qui. Siamo al Ferrotel di Corso Vittorio Emanuele. E quindi vogliamo recuperare proprio questa dimensione che cento anni fa vedeva tanta gente partecipare in ricordo di un evento bellico tragico, perché anche durante la Prima Guerra Mondiale gli austriaci bombardarono Pescara, bombardarono nell'ambito di una missione che prevedeva di colpire le fabbriche di bussi, ma visto che ci si trovavano hanno sganciato anche delle cose su Pescara, delle bombe che hanno fatto tre morti, e quindi ricordiamo questa circostanza. Ancora avanti con il nostro giornale, andiamo a vedere una iniziativa della CNA che riguarda il maggio formativo, la manifestazione giunta alla settima edizione. Questa iniziativa nasce sette anni fa, voluta fortemente da Ecip Abruzzo, l'ente di formazione della CNA, per far conoscere l'attività dell'ente di formazione, quindi aprirci al pubblico della formazione, non solo agli artigiani, e per fare un'analisi del fabbisogno di quelle che sono le necessità non solo delle imprese, ma anche dei privati cittadini. Quindi con questi corsi cerchiamo di rispondere all'esigenza non solo delle nostre imprese, ma anche dei cittadini, dei curiosi, degli studenti che vogliono avvicinarsi al mondo della formazione. Ci saranno 19 appuntamenti, tutti gratuiti, vogliamo dare anche qualche informazione di servizio, dove si svolgerà? Certo, tutte le attività saranno gratuite, questo grazie ai nostri collaboratori che si sono messi a disposizione per effettuare questo maggio formativo. I corsi si svolgeranno tutti qui, presso la sede della CNA Abruzzo, in via Cetteo Ciglia a Pescara. Durante tutto il mese di maggio, cominceremo il 4 maggio, per terminare il 31 maggio. Vi faccio alcuni esempi dei corsi, oggi cominciamo con la qualità, il corso sulla ISO 9001-2015, avremo corsi di degustazione della birra con il birrificio Almond, corsi sull'uso corretto della rete per pubblicizzare e promuovere la propria identità professionale con Blu, e tante altre iniziative che invito a consultare sul sito della CNA Abruzzo. C'è il link maggio formativo dove troverete non solo il catalogo delle attività formative, ma anche la possibilità di iscriversi direttamente online. A Teramo è stato presentato il bando straordinario del servizio civile per selezionare ed impiegare subito 163 volontari nelle aree terremotate dell'Abruzzo, 89 di questi sul territorio teramano. Il bando scadrà il 15 maggio ed è rivolto ai giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni. Ottime notizie per i giovani abruzzesi che dai 18 ai 29 anni vogliono impegnarsi per un anno nel servizio civile retribuito. È stato appena pubblicato infatti un bando straordinario che scadrà il 15 maggio con il quale selezionare 163 volontari da impiegare nelle aree terremotate dell'Abruzzo. 89 di questi sono destinati a sedi pubbliche e associative nel territorio teramano. I soggetti attuatori sono il centro servizi per il volontariato dell'Aquila, l'AMPAS e la Croce Rossa. Questi volontari che lavoreranno un anno nelle nostre zone terremotate cosa faranno in concreto? Allora sicuramente supporteranno gli uffici tecnici dei vari territori coinvolti nei progetti e quindi saranno di supporto alla popolazione anche per tutte le pratiche inerenti al sisma. E poi ci sono dei ragazzi invece che saranno occupati anche in attività di animazione sul territorio sia per bambini che per anziani e poi ci sono anche delle attività sempre di sostegno alle fasce più deboli che riguardano anche il cosiddetto trasporto secondario e quindi verranno aiutati anche nelle loro piccole esigenze quotidiane. La provincia di Teramo coordinerà l'intero progetto straordinario di servizio civile che vede la maggior parte dei volontari impiegati nei comuni terramani. Una buona opportunità di lavoro per i nostri ragazzi? Sì, diciamo che per i nostri ragazzi, vista anche la situazione che c'è nel paese, anche se dura un anno, però è un'opportunità importante per i nostri ragazzi, per tutta la provincia di Teramo e quindi grazie anche al contributo del governo riusciamo per un anno a far lavorare questi nostri giovani. Il bando è consultabile sul sito della provincia di Teramo. A Montesilvano presentati i risultati della ricerca condotta dall'Università d'Annunzio di Pescara nell'ambito del laboratorio urbano Montesilvano attivato dal Dipartimento di Architettura e incentrato sullo slow mobility e le reti ciclopedonali. Sindaco, un progetto importante, questo in collaborazione con la Facoltà di Architettura dell'Università Chieti-Pescara, si parla di laboratorio urbano. Ci sono prospettive importanti per la città di Montesilvano sotto questo punto di vista? Sì, la città cresce, è cresciuta in maniera esponenziale negli ultimi anni, però i collegamenti, la viabilità, la sostenibilità degli spostamenti non ha seguito questa crescita esponenziale. Ecco perché abbiamo avviato questa interlocuzione di grande spessore e di grande valore con la Facoltà di Architettura di Pescara per mettere in pratica una serie di sinergie che possano dare valore a quella che è la sostenibilità alternativa sul territorio e soprattutto efficientarla in una chiave di integrabilità tra il trasporto pubblico, il trasporto veicolare privato, ma anche e soprattutto le piste ciclabili e le altre mobilità che nel frattempo andremo ad individuare per rendere, diciamo così, più gradevole soggiornare a Montesilvano, spostarsi con più rapidità. È uscito fuori che ci sono una serie di occasioni per Montesilvano e soprattutto è uscito fuori che questo laboratorio urbano oggi presenta il primo anno di ricerca, dopodiché ci apriremo alla città nel secondo anno, così come previsto nel protocollo di intesa che abbiamo firmato tra Università e Comune di Montesilvano lo scorso anno. L'Università ha posto a bando, grazie al Comune di Montesilvano, una serie di borse di studio che sono state vinte, per nostra fortuna, da persone che operano, da architetti che operano nel territorio e che quindi i benefici della ricerca sapranno anche riverberarli in maniera positiva su Montesilvano, su questa zona, perché io credo che la strada parco sia ancora una grandissima occasione sulla quale occorre fare delle riflessioni non soltanto teoriche, ma capire quali sono gli ambiti applicativi nei quali si può realmente cambiare qualcosa. Oltre 350 studenti hanno partecipato alla giornata di studio sulla Cina contemporanea che ha coinvolto i giovani dell'Università d'Annunzio di Chieti Pescara, del Liceo Marconi di Pescara dell'Istituto Zoli di Atri. Vediamo. L'Abruzzo e le Marche sono un territorio dove, con i gesuiti nel 1600, si è aperta una via molto interessante verso la Cina. Parliamo di Matteo Ricci, parliamo di Valignano, parliamo di Acquaviva. Il legame tra Abruzzo e Cina fonda le sue radici nei secoli. Un rapporto profondo che oggi torna di grande attualità, vista la mole di capitali a disposizione degli investitori del Paese del Dragone, divenuto per effetto della globalizzazione e della sua immensa forza lavoro, una delle locomotive dell'economia mondiale. Gli ultimi grandi investimenti cinesi nel calcio italiano, vedi Milan e Inter, ne sono la testimonianza concreta. E' dunque importante conoscere la cultura e la storia del più grande paese asiatico, che conta oltre 2 miliardi di persone, un terzo della popolazione del pianeta. Per questo la Fondazione Aria, assieme all'Università d'Annunzio e al Comune di Atri, con cui porta avanti da 4 anni il progetto interculturale Steel of Peace, ha dedicato l'evento Cina Day al confronto con la cultura cinese, per conoscerne i vari aspetti e sconfiggere gli stereotipi che ostacolano il dialogo tra Oriente ed Occidente. Il Comune di Atri da 4 anni ospita nel suo meraviglioso centro storico una manifestazione, un dialogo culturale tra l'Italia, l'Abruzzo e un paese del mondo. Ci saranno due mostre importanti, verso le scuderie del Palazzo Ducale, le cisterne romane della Cattedrale. Poi il teatro ospiterà appunto la Maratona del Contemporaneo e nel chiostro della Cattedrale ci saranno appunto gli appuntamenti con il cinema in lingua cinese. Il Centro Studi sulla Cina Contemporanea ha infine presentato agli studenti abruzzesi l'opportunità di partecipare ai progetti dedicati allo studio della cultura cinese, come la prima edizione della Summer School che si svolgerà a Roma. A cui invito anche gli studenti della Danunzio interessati alla Cina a partecipare per un primo passo verso un approfondimento di questo mondo pieno di stimoli e anche di opportunità per l'Italia, per il nostro futuro e anche per il lavoro dei nostri giovani. Il Lions Club di Teramo festeggia il suo centesimo anniversario finanziando la piantumazione di un'area all'interno dell'Istituto Agrario Rozzi, un futuro parco verde che sarà dedicato al fondatore del club Melvin Jones. Cresceranno insieme alberi e giovani all'agrario di Teramo. Una vasta porzione di area verde all'interno dell'Istituto Superiore Teramano, di proprietà della provincia, è stata adottata dal Lions Club di Teramo che in onore del centenario della sua nascita finanzierà la piantumazione di nuove piante su un suolo che diventerà un parco e che porterà il nome del fondatore americano del club Melvin Jones. Cento anni di Lions Club, scegliete di festeggiarlo con un giardino a favore dei ragazzi? Certo, perché così rispettiamo alcuni degli obiettivi che sono stati posti per il centenario da Lions International, i ragazzi, i giovani e soprattutto l'ambiente. Chi era Melvin Jones? Melvin Jones era un commerciante americano che aveva l'idea che si potesse aiutare il prossimo servendo e ha cominciato riunendo un gruppo di persone inizialmente per questa attività nella sua sede e poi successivamente si è allargata man mano fino a diventare oggi la più grande associazione del mondo con rappresentanti anche alle Nazioni Unite. Quest'area come la trasformerete? Quest'area è un'opera di ripisto ambientale, ospitava in passato la vecchia serra che è stata demolita e trasferita in un altro luogo e di conseguenza abbiamo fatto ritornare il bosco che era presente inizialmente tramite un'opera di ingegneria, chiaramente naturalistica, che prevede la costituzione di una serie di fasce vegetazionali riguardanti varie essenze arboree e arbustive, sempre selvatiche e di conseguenza la stiamo rinaturalizzando. Adesso apriamo la pagina dello sport, iniziamo dalla Serie A, domenica pomeriggio il Pescara sarà in campo contro il Crotone che ad inizio torneo sembrava poter finire alle spalle del Delfino, invece così non è andata. La squadra di Nicola lotta ancora per la permanenza nel massimo campionato di calcio mentre i biancazzurri pensano già al futuro e al prossimo campionato di Serie B, il servizio di Jacopo Forcella. Mentre il caso Montari continua a far discutere e non solo a livello nazionale, in casa a Pescara la gara di domenica pomeriggio contro il Crotone sarà solo la quart'ultima tappa di un calvario destinato a chiudersi con una delle più grandi amarezze della recente storia biancazzurra. Una retrocessione annunciata da tempo ma che potrebbe avere una coda persino più amara perché i calabresi di Nicola, accreditati da molte ad inizio torneo come la formazione Cuscinetto persino alle spalle del Pescara, invece ancora in piena corsa per la salvezza a meno 4 dall'Empoli col Delfino che sull'altro fronte da tempo ha mollato la presa. Ecco, i calabresi incarnano tutti gli impianti di un'annata da dimenticare perché sono il metro di paragone con i biancazzurri. Sembrava che il Pescara domesse mettersi facilmente alle spalle almeno il rosso-blu che invece oggi sono 11 punti avanti al Delfino 14 se si considerano i tre punti di Sassuolo-Pescara. È chiaro che da tempo c'è in cantiere l'annata futura però la scelta di Zeeman rappresenta la certezza per la prossima stagione in Serie B ed è altrettanto evidente che la conferma di Pavone dà ulteriore credito ad una campagna rafforzamenti iniziata per ora pescando in Lega Pro. Ma nel Merino c'è sempre Richmond Boacidi, proprietà di quella latina retrocesso ufficialmente proprio ieri dopo la penalizzazione del Tribunale federale. È evidente che i pontini avranno bisogno di liberarsi della punta in prestito alla Stella Rossa ed ecco allora che la missione a Belgrado di Leone ha un grande valore. Intanto Zeeman domenica pomeriggio dovrà rinunciare oltre a Montari anche allo squalificato Biraghi fermato dal giudice sportivo mentre Coulibaly ieri si è fermato durante la seruta di allenamento. È tornato invece ad allenarsi coi compagni Alberto Girardino dopo l'operazione al ginocchio. Per lui solo una presenza a Napoli alla prima di ritorno troppo poco per poter sperare in una conferma. Intanto si profila un nuovo scontro tra il presidente Daniele Sebastiani e l'ex amministratore delegato Danilo Iannascoli. Quest'ultimo infatti ha querelato il numero uno della società biancazzurra per le dichiarazioni che lo stesso Sebastiani rese in un'intervista a Radio 24 dopo l'incendio delle sue due auto nella notte tra il 6 e il 7 febbraio scorso. Un'altra puntata di una querella che si è intersecata anche con l'offerta da parte di Iannascoli di rilevare il pacchetto di maggioranza del club. Offerta però subito rispedita al mittente. Ed ora scendiamo in Lega Pro per il Teramo ultima della stagione regolare a Salò contro la Feralpi. Il diavolo deve vincere e sperare che il Mantova non faccia lo stesso contro il Sud Tirol altrimenti saranno play-out. Il centrocampista biancorosso Stefano Amadio crede ancora fermamente nella possibilità di raggiungere il traguardo finale. Sentiamolo. Io ci credo, penso che... Cioè comunque dall'arrivo del mister ci siamo compattati tanto, abbiamo fatto... Penso abbiamo una media che comunque se fosse cominciata iniziano saremmo salvi alla grande e quindi io credo che abbiamo grandi possibilità di salvarci. È chiaro che poi dipende da noi perché di chiacchiere ne abbiamo fatte tante e di risultati un po' meno, però io ci credo. I tifosi è normale che quando c'è stato da prendersi gli elogi ce li siamo presi, quando le cose vanno meno bene è giusto che ci prendiamo anche qualche critica. Credo sia normale. Questo deve essere uno sprono per noi a fare meglio e a dimostrare che si sbaglia. Dobbiamo cercare di fare meglio nella fase di sviluppo, nella fase offensiva e creiamo un po' poco e concretizziamo ancora meno. Però ci sta che ci stanno gli errori e speriamo che domenica vada meglio. No, ho dato merito ai giocatori del Modena che hanno fatto, penso, il loro e ci aspettiamo che anche il Suttirole faccia lo stesso. Questo però deve essere accompagnato sempre e solo dalla nostra vittoria, se no servirà poco anche quello. Se mi avessero chiesto a chi doveva capita una palla del genere, se gli ricapitano altre dieci volte, fa dieci gol. Però so cose che succedono, io stavo proprio lì dietro, penso l'abbia presa un po' male. Poi comunque al 93, dopo una partita di grande corsa, di grande sacrificio, ci può stare un errore. Però se lo sarà tenuto per domenica, Marco penso che con l'esperienza che ha non bisogna dirgli niente, anzi, è carico come sempre e speriamo che lui per domenica. È tutto anche per la seconda edizione del TG6, il prossimo appuntamento con la nostra informazione è alle ore 23. Grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona serata. Grazie. 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 Grazie.